ciao runners e ciao amanti della corsa io sono lorenzo maggiani e questo è il podcast da 0 a 42 prima di iniziare un enorme grazie a vincenzo jannotta che è entrato anche lui a far parte del novelo dei miei patrons grazie mille vincenzo per l'enorme supporto che mi dai non solo tramite patreon ma in generale quotidianamente ma veniamo a noi qualche giorno fa ho ascoltato una puntata del podcast rimbalzi su kobe bryant penso che l'avessero pubblicato in occasione dell'anniversario della sua scomparsa essendo un appassionato di basket pur ammetto non particolarmente di kobe seppur ovviamente lo reputassi un grande atleta un grande giocatore e quindi sapevo comunque molto di lui ma non ricordavo che all'epoca quando è entrato in nba detenesse il record di giocatore più giovane ad aver esordito nella lega a 18 anni adesso in questo preciso momento è terzo e se non cambieranno le regole che nel frattempo hanno modificato quelle di accesso appunto all'nba probabilmente resterà in quella posizione a lungo kobe poi si è ritirato dopo una ventina di anni di carriera e lì in quel momento mentre ascoltavo la puntata ho realizzato come invece nella corsa di noi amatori principalmente 38 anni o giù di lì sia per i più l'età in cui si comincia a correre io l'ho fatto un po' prima dei 38 anni ma neanche poi molto e tanti addirittura l'approcciano già scavallati i 40 successivamente sono andato a correre e mentre correvo ovviamente ragionavo e mi ha fatto venire in mente un'altra ulteriore frase che poi dà il titolo all'episodio odierno è una frase di max collini degli allora o flaga disco pax e anche in questo caso ai noi funestati da una perdita nello specifico del bassista enrico fontanelli restano personalmente gli o flaga una delle mie band preferite di sempre in quanto fan del genere vetero elettronico definizione che ho inventato io ora in questo momento ma chiusa parentesi max collini per l'appunto disse in un'intervista di aver iniziato a fare musica proprio con gli o flaga disco pax e facendo così tour attorno ai 40 anni quando appunto è iniziato questo progetto quando invece in molti casi chi è una band interrompe le proprie attività perché probabilmente ha iniziato da più giovane attorno all'età adolescenziale o poco successivamente ma non ha sfondato e poi famiglia e tutto il resto il lavoro iniziano ad avere la priorità lui invece gli ha detto proprio ho iniziato quando di solito gli altri smettono e quando ci si trova a partire così in ritardo in una determinata attività rispetto alla media le cose sono diverse e ovvio e adesso pian piano ritorno alla corsa come ci siano anche tanti run che corrono sin da quando sono più piccoli che magari hanno fatto atletica e non hanno mai smesso o che comunque hanno fatto una piccola pausa per poi dedicarsi al mezzo fondo anche a roba più lunga e queste sono tra parentesi solitamente le figure che vincono le nostre gare locali tuttavia la stragrande maggioranza degli amatori è iniziato dopo sono andato anche a cercare se trovavo in giro una statistica che confortasse il mio pensiero onestamente non ho trovato nulla riguardo l'età di inizio ma ho letto che nel 2019 la media di chi correva una mezza era di 39 anni e una maratona di 40 anni quindi dai su questo comunque ci siamo anche perché una maratona non la fai magari dopo un minuto che hai iniziato a correre ci vuole un po di assestamento quindi come età grosso modo ci siamo molti fanno qualche altro sport spesso di squadra e poi abbandonano ma volendo proseguire nel fare qualcosa uno sport magari poi per non ingrassare di impiegarsi troppo iniziano a correre è lo sport che viene più naturale fare da un certo punto di vista ed è stato così anche per me del resto in questa puntata per cui farò un po la spola nel racconto tra la mia esperienza e buttandoci dentro quella dei consigli pratici tra virgolette o comunque dei ragionamenti sul come inizierà a correre quando non sei più ragazzini ci butterò insomma qualcosa che mi viene così quella dei pensieri sparsi spero così di non passare per megalomane ma sicuramente parlerò parecchio dei cazzi miei però vorrei ben dire ho un podcast che parla di me della mia esperienza da runner è ovvio che sono uno che parla in linea di massima dei cazzi propri insomma io ho giocato lo dicevo anche prima in un certo senso per molti anni a basket ma poi ho interrotto uno dei motivi principali che additai all'epoca fu che era troppo impegnativo in termini di ore erano 2 barra 3 allenamenti settimanali alla sera più una partita se penso che ora la corsa mi cuba molte molte più ore di impegno tra seduti infrasettimanali lunghi del weekend potenziamento stretching rule e così via mi viene da ridere e qua mi collego finalmente al primo pensiero compiuto di oggi dopo tante divagazioni non è un problema di tempo quella è una scusa perché se c'è la volontà si fa tutto del resto ricordo bene come quando invece ero bello carico per la palla canestro comandavo volentieri anche in trasferta a viareggio a carraro da quelle parti o la sera e andando comunque senza alcun problema il giorno dopo al lavoro una volta addirittura ricordo che giocai proprio a viareggio qualche minuto in campo con un dito rotto eravamo andati lì solo in sette ci eravamo presentati in sette giocatori e come si suol dire stavamo prendendo una bella bagnata un mio compagno era già fuori per falli ed io mi ho appena fatto male al dito non sapevo ancora che fosse rotto ma mi ero reso conto fin da subito che la situazione fosse abbastanza grave dissi a un mio compagno in quel momento lì gravato di quattro falli o mi raccomando non fare il quinto piuttosto lasciali segnare tanto siamo sotto di 20 anche se perdiamo di 22 non cambia nulla lui era un po la peccora nera della squadra quindi non farò nomi tant'è che è successo proprio così detto fatto un minuto dopo commise il quinto fallo e io tornai in campo mi sforzai per finire la partita col dito gonfio pur di non lasciare i miei compagni in quattro ecco adesso chiudo la parentesi ma questo è proprio per dire come quando sei motivato fai di tutto giochi anche sul dolore per dire proprio che è solo una questione di mera motivazione il fatto di non avere tempo è una scusa non vogliamo investire quel tempo semmai si dovrebbe dire così di buono invece c'è che la corsa dà molta più libertà di organizzazione rispetto a uno sport di squadra qualsiasi esso sia al di là del basket lì si deve sottostare agli orari di tutti mettersi d'accordo magari bisogna pensare anche alla disponibilità della palestra o del campo invece a correre uno ci può andare quando gli pare e piace così che io ho trovato per esempio il mio slot al mattino presto quando sicuramente non mi sarei mai potuto allenare con altri compagni a basket solo i pazzi come noi runner si alzano alle 6 e qualcuno anche prima per correre fare running in questo è meglio di tanti altri sport non necessitando di attrezzature particolari di luoghi dedicati ad esso poi esistendo le piste ad esempio però si può fare anche per strada e così consente grande libertà in quanto adorare incastrandosi bene con gli impegni di ognuno perché alla fine ci si va quando si può da un certo punto di vista tuttavia iniziare tardi a correre per certi versi può essere un problema ad altro canto perché tante persone quando iniziano soprattutto sottovalutano la corsa anche proprio per questa apparente semplicità che è solo apparente per l'appunto chi corre da tanto lo sa come ci siano invece tante sfumature e cose da curare che all'inizio si ignorano bellamente ma proprio perché non si sa non le si conoscono e anche il bello e il brutto al tempo stesso della corsa la si può approcciare senza troppi pensieri in fin dei conti basta un paio di scarpe ci si dice quando si parte però in quel momento non si è pienamente consapevoli della sua complessità cosa che a volte può ritorcersi contro portando tante persone a smettere dopo poco tempo perché in molti casi si inizia o lo si rinizia a fare dopo tanto tempo di sedentarietà o comunque dove si sono fatte altre attività che non erano correre intanto le prime uscite saranno veramente molto molto faticose e qualcuno non supererà mai questo scoglio ma per me questa è una sorta di selezione naturale diciamo così se non hai voglia di affrontare superare l'enorme sforzo iniziale anche solo per correre per due tre chilometri che all'inizio sono tantissimi allora la corsa probabilmente non fa per te perlomeno in questo momento poi magari tra due tre quattro anni potessi riprovare e innamorarti e poi c'è un aspetto più tecnico e tra virgolette scientifico adesso esagero con scientifico anche per chi invece supera questa prima fase cioè che è dimostrato come le capacità coordinative si apprendano molto meglio fra i 6 12 anni quella è l'età dell'oro diciamo così dopo è via via più dura più passa il tempo e se non si corre come si deve da anni ci si è come dimenticati un po come farlo a modino perlomeno non sappiamo farlo con una gran tecnica altra cosa sulla quale sono passato anch'io ovviamente adesso non voglio assolutamente tirare fuori il discorso di corso naturale compagnia ma è vero che in molti casi quando si inizia a correre da adulti si è privi di un appoggio e di una tecnica in generale corretti ripeto mi ci metto dentro pure io oggi riguardando i miei primissimi video o foto di quando correvo da poco tempo rabbrividisco per il mega over striding che facevo e di questo però non ce ne si rende conto all'inizio perché i primi tempi si corre bonali cosa che però invece alla lunga potrebbe portare anche degli infortuni se oggi con l'esperienza accumulata ovviamente è facile parlare dopo col seno di poi ma se oggi tornassi indietro a quando ho iniziato a correre assumerei un coach della zona per insegnarmi a farlo anche solo per tre o quattro lezioni private giusto per darmi le dritte sulla tecnica di base giusto per avere fin da subito uno sguardo esperto ed esterno in grado di correggermi è vero che il corpo si adatta col tempo ai vari scompensi se non ci si è fatti male in qualche modo ci sia giusta mettiamola così ma partire con il piede giusto sarebbe sicuramente meglio e potrebbe prevenire tante possibili magagne per questo dico a chi eventualmente fosse l'ascolto che si trova in una situazione del genere di prestare un occhio di riguardo alla propria tecnica molto meglio modificarla all'inizio che non si è ancora proprio meccanizzato e automatizzato il gesto un'altra differenza che ho notato sempre su di me circa l'inizio ritardi è il recupero dopo che avevo smesso di fare basket ho passato due o tre anni praticando calcio a sette ero anche molto scarso più di quanto già fossi una pippa a basket ero proprio scarsissimo per la cronaca e giocavo il campionato weekend che come dice il nome stesso si giocava nel fine settimana ecco ai tempi era proprio abitudine per me andare a fare serata con amici al sabato sera a pogare concerti o a ballare cose così tornare tardissimo e poi presentarmi la domenica mattina bello come il sole alle 10 o alle 11 al campo per giocare se oggi provassi a fare una cosa del genere non riuscire neanche ad ambulare figuriamoci giocare a calcio invece in quel campionato addirittura arrivamo secondi arrivamo in finale poi perdemmo 3 a 2 non per merito mio comunque ma anche questo è un fatto fisico ed inevitabile dettato principalmente dall'età perché con il passare degli anni la velocità e la capacità di recupero cale fisiologico non riusciamo a riprenderci con la stessa rapidità di quando eravamo più giovani c'è poco da fare da questo punto di vista allo stesso modo con gli anni si tende a perdere di forza di massa muscolare di elasticità che sono quindi altri aspetti che vanno curati proprio in generale a tutto tondo per noi runner ancora di più se si inizia a correre pilla con gli anni anche qua ho imparato sulla mia pelle quanto siano essenziali le sedute di potenziamento a secco di mobilità di allogamento di foam roller e così via non solo servono per avere delle prestazioni migliori ma soprattutto ci aiutano nel prevenire gli infortuni insomma oggi ho provato a fare un po un escursus ricco anche di parentesi di vagazioni su altri argomenti per realizzare banalmente come sia figo correre a qualsiasi età ma forse fare in età adulta sia diverso che imparare a farlo quando si è ragazzi perché ci vuole un approccio fisico e mentale differente al solito fatemi sapere la vostra sul tema tanto l'età media dei miei ascoltatori è questa quando avete iniziato e come avete vissuto voi questa sorta di transizioni quali problematiche avete avute sempre soprattutto se l'avete fatto poi da adulti se correte da tanti anni forse qualche cazzata ve la siete evitata come sempre mi trovate su instagram su telegram via mail ci sono tutti i miei recapiti nelle notte dell'episodio vi ricordo anche che potete lasciare delle recensioni spero a 5 stelline su spotify o apple podcast e che se volete fare come vincenzo che ringrazio ancora potete sostenere questo progetto tramite patreon con una donazione ricorrente mensile in alternativa ci sono anche quelle una tantum e vanno bene anche loro assolutamente su bei mia coffee o paypal anche in questo caso sta tutto quanto in descrizione direi che per questa puntata auto celebrativa è tutto cari runners qualsiasi età voi abbiate alla fine della fiera anche sti cazzi andate a correre ci sentiamo alla prossima puntata